Ciao a tutti meccolicine e benvenuti in questo nuovo video Oggi andremo a giocare a Toka Life Che è un gioco molto bello Iniziamo subito Entriamo Oggi comunque andremo a farvi vedere la mia casa Ok allora partiamo Questa è la mia casa Che ho arredato Tralasciando che loro sono qua Questi che mangiano Allora questo qui è il bagno Con lo shampoo La doccia Dintifricio, spazzolini eccetera Questa casa è molto carina Però c'è qualcosa da cambiare Perché non ho molto oggetti Poi mi sento osservata Perché questa è la persona che mi guarda Tralasciando i pomodori tutta a terra Questa stanza Che sarebbe la cucina L'ho arredata così Questi qui li dovrei mettere ai cani e ai gatti Però in questo momento sono nelle altre stanze Questa è la prima tantissime cose Tante proprio Ok questi qui sono due figli Uno maschio Questo qui con le lentigini E quella piccolina è la femminuccia Qua abbiamo la stanza della mamma E perché ha pochi vestiti Ah questo letto A me non piace Perché non ha colori il letto Cioè guardate Questa qua è una stanza molto carina Buona Vabbè comunque Mettiamolo là Ciao Allora comunque Questi qui è il gattino E il caniolino Qua abbiamo la stanza dei due fratellini Il fratellino maschio dorme sopra E la femminuccia piccolina dorme sotto Qua abbiamo dei peluche Vestiti Libri per andare a scuola Tanti libri però Giocattolini E anche la tv Questa qui Allora i miei cuoricini Ora iniziamo una piccola storiella Allora i miei cuoricini Vi dico i nomi La mamma dovrei essere io Quindi Sofia Poi Lui si chiama Giulio Che è un maschetto E lei si chiama Rita Visto che ho fatto già i piatti Ho sparicchietto tutto Che se andiamo a comprare qualche vestitino Va bene mamma Va bene Buongiorno signora Venite qui Vediamo anche i vestitini carini che ci sono Molto carino questo Aspetta che lo vado a provare Come mi sta? Sì mamma Ti sto molto bene Sì mamma Benissimo Ce ne sono molti altri Molto carini Prenderei questo Che lo stesso dovrebbe essere Vediamo Sì Prenderei questo mi sa Anzi compro anche questo qui verde E compro anche questo qui Tutto compro Andiamo alla cassa Andiamo alla cassa Venite qui Quanto costano questi vestiti? 20 euro in tutto Ok Grazie Andiamo Mamma Che c'è? Non lo so Io vorrei cambiare la casa Pure io È un po' piccolina Un po' piccina Per noi tre Tu vuoi comprare una casa nuova? Va bene Sì La casa è nuova Weee Però ti devi calmare No è stata un po' felice Weee Va bene Allora andiamo a comprarla Ok, la casa che ci compriremo è questa Ok, mi cucini, abbiamo acquistato Ok, allora, l'ho messa qui Eccola E allora, si dovrebbe chiamare Villa Moderna Ok, entriamo Sono veramente curiosa di vedere cosa c'è all'interno Allora Ma perché siamo aspettati, no? Allora, qua c'è il primo terra e il primo piano Allora, si entra da qui Wow Si apre la porta Ok, allora Qui, all'entrata Abbiamo un corredoio Con questo qua, scrivania Oddio Wow Ok, allora, qua abbiamo l'ascensore Wow Ehm Siamo, cioè, sembra che siamo nella savana Perché qua c'è tutto pieno di alberi C'è spui, tutto Ok Ah, qua abbiamo il bagno tutto rosa Che bello Adoro Ok, e qui poi andiamo a fare qualche cosa Perfetto Allora, andiamo al secondo piano Che dovrebbe essere il primo Ok, allora Allora, siamo arrivati Allora No, vabbè ragazzi Ma che cos'è questa cosa Oh mio Dio Wow Perfetto C'è una piscina Tipo al bordo Del specie Balcone Tra virgolette E E una terrazza Sì, dovrebbe essere una terrazza Perfetto Allora, ah Qui abbiamo la piscina Cosa? Che forza Tu probabilmente metti così E vuoi quello che vuoi Va bene Vabbè Mettiamo a lavare tutto Come se non ci fosse un domani E qui abbiamo altre stanze Mamma mia ragazzi Di stanze Ah, guardate qui Che forza Ok, io molto carino Ok, mio coricini Questa qui è la casa Vuota Ho tolto tutte cose Perché poi la voglio reddare io E nel prossimo video Vi farò vedere la casa completa E faremo anche Alla fine Una piccola storiella E va bene Mettiamo i miei carici Se vi è piaciuto questo video Lasciate tantissimi like Qua Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Qui Per non perdere nessun video Che caricherò E commentate O su Instagram Mi chiamo così O sulla community Se vi è piaciuto La casa vecchia E poi Se vi piacerà Questa casa Che arrederò E saluto a Viola Lorenzo Chiara E Giorgia E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao